Ok, e questo si dopo teoria, la ricetta Ungolam, la ricetta Ungolam, ok, più importante sulla 45 gradi, poi più importante essere l'armonia, essere l'armonia sono più importanti l'intenzione di partire dall'anca, se non partire dall'anca non si può fare. E poi ultimo punto, quando si sacca, questa forza dà un piede, dà tutti i quali dite e quindi la forza è la forza, ok, sacca, sacca, ok, questo è molto interessante, vediamo.